Scuole superiori caccia alle aule mancanti Pensioni a Pesaro 6 su 10 sotto i 750 euro Bonaccini apre la festa dell'unità di Vallefoglia Pesaro in festa con la mezzanotte bianca dei bambini Vispesero via il sesto campionato consecutivo di Serie C Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV Di nuovo insieme con il nostro spazio informativo Rossini News Il nostro telegiornale della canale 80 Che in questa edizione di giovedì 31 agosto Apriamo occupandoci di scuola Perché mancano esattamente due settimane Al 13 settembre data della prima campanella Sull'anno scolastico 2023-2024 Ma a Pesaro sono ancora diverse scuole superiori Quelle che hanno necessità di spazi da risolvere Sparisce il bar del liceo scientifico musicale Marconi L'istituto superiore del campus rinuncia al suo ormai storico punto di ristoro Per ricavare tre nuove aule Quelle che mancano all'appello dell'attuale demografia scolastica Quelle che consentiranno di evitare una migrazione di studenti fuori istituto Migrazione già scongiurata anni fa attraverso l'utilizzo delle aule container Sparisce il bar arrivano le aule ma è già corsa contro il tempo per completare il lavoro Entro la prima campanella dell'anno scolastico fissata per il 13 settembre Quella del Marconi è solo una delle varie matasse ingarbugliate Fra le mani dell'amministrazione provinciale Che deve ancora trovare una soluzione al vicino Bramante Genga Che ha esaurito gli spazi interni Ma che ha ancora necessità di tre aule e di un laboratorio E confida che l'ente provinciale li ricavi sempre all'interno del campus Mancano due aule anche alla Gallardo Cecchi E le ricaverà a distanza di qualche centinaio di metri All'interno dell'ufficio scolastico provinciale Un risico di spostamenti a due settimane dalla prima campanella Sull'anno scolastico 2023-2024 6 pensioni su 10 in provincia di Peso d'Orbino Non raggiungono i 750 euro mensili E questo è un dato preoccupante anche alla luce dell'inflazione crescente Analizzato dall'osservatorio IMSS e rielaborato dalla IRS CGL Marche Ne abbiamo parlato questa mattina nei nostri studi Con la segretaria regionale dei pensionati marchigiani Per quelli che riguarda la CGL, Lilli Gargamelli 6 pensioni su 10 nella provincia di Peso d'Orbino Sono inferiori ai 750 euro E questo è il dato più preoccupante che emerge dal recente report Dell'osservatorio IMSS e rielaborato dall'IRS CGL Marche Su una demografia di circa 117 mila pensioni nel nostro territorio Dati preoccupanti, Lilli Gargamelli, per quello che riguarda uno stato Una stato dell'arte che tra l'altro convive con il problema dell'inflazione Assolutamente sì Peraltro sono persone nella maggior parte dei casi Con una fragilità e con una difficoltà nell'accedere alle prime cure Perché le persone 65 anni autosufficienti ovviamente avrebbero diritto ad avere una qualità della vita Superiore a quella che sono in grado di sostenere con questi valori economici Quando parlo di qualità della vita significa accesso alle cure e accesso all'alimentazione E accesso alla casa Sono tutti elementi che fanno la qualità e il benessere di una persona Io sono abituata a paragonare i diritti delle persone anziane Oltre 65 anni autosufficienti Non trattiamo il tema della non autosufficienza Perché lì sarebbe veramente una tragedia valutarla con questi dati economici Analogamente alla prima infanzia Sono entrambe persone fragili Entrambe persone che avrebbero diritto ad un benessere, ad una qualità della vita Che ovviamente per quello che ci riguarda Significa accesso alla cultura, accesso all'arte, accesso al benessere Accesso allo svago, accesso alla casa, accesso ai beni di prima necessità L'inflazione che oggi purtroppo cade ferocemente su queste entrambe situazioni Sia della prima infanzia sia degli anziani Colpisce in modo molto pesante E di stamattina, se non ho capito male dal radiogiornale L'indicazione anche della Lega di innalzare le pensioni minime Quelle che sono a 600 euro Ma c'è un tema, che è quello che è stato trattato stamattina Spero non sia di questa natura Una possibile non applicazione dell'indicizzazione E che vuol dire che l'inflazione continua ad erodere, ad incrementare Pensionati non hanno nessuno strumento per avere un adeguamento economico da questo elemento In tal senso il sindacato cosa può fare anche nel dialogo con le istituzioni governative? Assolutamente gli accordi che abbiamo stipulato con il Comune di Pesaro Con il Comune di Fano Con i grandi comuni della provincia Ma anche con gli ambiti territoriali possono essere un sollievo Perché affrontano il tema degli affitti Affrontano il tema della taria Affrontano il tema della vivibilità in ambienti protetti peraltro C'è una questione invece rilevante Coloro che hanno avuto accesso e hanno accesso con sempre maggior difficoltà Le case di riposo devono sostenere una retta Che è diventata pressoché insostenibile per le famiglie E c'è il tema ovviamente della cura È un tema che non riguarda soltanto gli anziani Riguarda un pochino tutti Le lunghe liste di attesa e l'accesso purtroppo alla cura dal punto di vista del privato È un elemento di grande inquietudine E partita oggi la festa dell'unità di Villa Fastigi Partirà domani quella di Vallefoglia Lo farà ospitando il presidente nazionale del PD Nonché presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini Dopo la prova dello scorso anno Dopo alcuni anni di assenza Torniamo quest'anno con la festa dell'unità di Vallefoglia 1, 2, 3 settembre nel parco Guido Volponi Adiacente alla chiesa di Montecchio Siamo molto orgogliosi del programma che abbiamo organizzato Dalle orchestre al ristorante che abbiamo allestito E soprattutto visto che è una festa di partito il programma politico Perché noi abbiamo avuto la disponibilità molto importante di Stefano Bonaccini Che oltre a essere il presidente nazionale del partito è il presidente dell'Emilia Romagna Del sindaco di Firenze Nario Nardella e dell'europarlamentare Camilla Lauretti Oltre a tutti gli altri dibattiti che abbiamo spiegato durante la conferenza stampa Dal dibattito sulla sanità regionale dopo tre anni di giunta a Quaroli Dal dibattito sulla scuola e l'università E a quello sui cambiamenti climatici anche alla luce degli ultimi avvenimenti legati all'alluvione di maggio Quindi siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo preparato Speriamo che questi tre giorni vadano bene Anche il lavoro di comunicazione e volantinaggio sta andando forte in questi giorni Fare una festa è un impegno Un impegno di volontari, di militanti Di persone per bene che pensano che una festa democratica Come quella delle unità e popolare possa essere un momento di incontro Di discussione sui temi del lavoro, sui temi della sanità Sul futuro di questo paese, sul futuro delle marche Sul futuro della città di Vallefoglia Che come si sa è un centro importante in fortissima crescita Quindi una festa nel cuore di quest'area di oltre 50.000 abitanti E una delle 4-5 più importanti della provincia di Piso Urbino e delle Marche E' quanto mai utile e necessaria Necessaria non solo per gli elettori di centro-sinistra Ma necessaria per tutti i cittadini Perché è un momento comunque in cui si sta insieme Si mangia bene, si balla, ci si diverte E poi si discute anche dei problemi che questa comunità ha I problemi dell'occupazione, del lavoro I problemi della tutela, della salute Del funzionamento dei servizi sociosanitari Di questa provincia, di questa regione Colgo l'occasione per invitare tutta la cittadinanza A prescindere dall'appartenenza politica Non solo di Vallefoglia ma anche dei comuni limitrofi Da Pesaro e tutta questa zona di Pian del Buscolo A questo grandissimo evento popolare Ed ora una buona notizia Contrasto dell'ormai cronica carenza dei medici Nel nostro territorio E' stata infatti pubblicata la determina Che dà il via al concorso per l'assunzione A tempo indeterminato di 17 medici Da destinare ai diversi presidi Dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino Nel dettaglio si tratta di 6 posti Dirigente medico di cardiologia 3 di dirigente medico in malattie infettive Due reparti di nefrologia e dialosi 3 a oftalmologia 2 oncologi e un posto di dirigente medico Nella disciplina di anatomia patologica E restando in tema sanitario La ST Pesaro Urbino Continua a investire sulla prevenzione Va infatti in questo senso Il progetto Walk in Progress Che per il terzo anno presenta Un programma gratuito Votato alla lotta alla sedentarietà Per il terzo anno consecutivo Il servizio di medicina dello sport Del distretto di Pesaro Propone il progetto Walk in Progress Finalizzato a combattere sedentarietà E aumento di peso Prevenendo fattori di rischio cardiovascolare Il progetto presentato nel comune di Pesaro E promosso dall'azienda sanitaria territoriale E' realizzato in collaborazione Con gli istruttori della palestra Movens Startup dell'Università di Urbino La proposta è quella di allenamenti A discrezione gratuita Di 10 km di camminate In 10 settimane Comprese fra il 4 settembre E la camminata conclusiva del 12 novembre L'iniziativa si propone Di avviare l'attività fisica Delle persone che sono inattive O che lungo tempo Che non praticano più nulla Il programma di allenamento È un programma ben fissato Ogni settimana ci sono dei compiti da svolgere E gradualmente le persone verranno portate A camminare 10 km Nelle precedenti edizioni Abbiamo avuto una partecipazione Di circa 100 persone ogni edizione Quindi quest'anno ci riproponiamo Di aumentare le persone Che parteciperanno E che arriveranno alla camminata finale Durante le 10 settimane I partecipanti che seguiranno Il programma di allenamento Per principianti o avanzato Potranno gratuitamente incontrarsi Una volta a settimana Per una camminata guidata Dai laureati in scienze motorie Oppure potranno essere seguiti Via web o presso la palestra Movens Per indicazioni personalizzate La prevenzione come dicevo prima È fondamentale per evitare poi Tutte quelle che sono le patologie E le criticità che si manifestano Nella popolazione Nel istituendo atto aziendale Che stiamo ragionando Proprio in questi giorni Lavoreremo un capitolo a parte Per quanto riguarda la prevenzione Perché sicuramente migliora La qualità di vita dei cittadini Non crea problemi Per le terapie successive Noi sappiamo tutti Il grosso problema Dei pronto soccorsi Dei posti letto in ospedale Dei medici di medicina generale Quindi se noi riusciamo Ad evitare che il paziente Manifesti queste sue malattie È chiaro che abbiamo fatto Un grosso lavoro Per i nostri cittadini Quindi questo progetto Rappresenta un punto Molto importante Perché lavora su quella Che è l'attività fisica Che previene malattie Cardiocircolatorie Obesità Diabete Dismetabolismi E malattie oncologiche E naturalmente Rappresenta un punto fondamentale Da mettere in associazione Con la corretta alimentazione E con degli stili di vita Una cosa molto banale Noi parcheggiamo sempre davanti Al posto dove dobbiamo andare A lavorare O dove andiamo a fare spesa Basterebbe che lo spostiamo Di 500 metri Tutti i giorni E raggiungiamo Quello che è l'obiettivo Di un'attività fisica Senza dover fare Grandi sacrifici La cosa importante E voi siete fondamentali Da questo punto di vista Far capire alla popolazione Il benessere Di una cosa banale Come quella di camminare O non prendere l'ascensore Magari fare le scale O magari mettere qualcosa in più Rispetto a quello Che è la nostra vita sedentaria Televisione E sede di lavoro Ed ora lo spazio Alle vostre segnalazioni Che come sempre Vi invitiamo A inviarci Al numero whatsapp Dedicato 370-366-7210 Le immagini Che vi mostriamo ora Risalgono Al tardo pomeriggio di ieri Quando a Borgo Santa Maria Attorno alle 18.30 È crollato un albero Su strada Selva Grossa Finendo per invadere Entrambi i sensi di marcia Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco Che hanno rimosso l'arbusto Consentendo il ripristino Della viabilità stradale Nell'episodio Non ne risultano Veicoli coinvolti Altra segnalazione Che ci giunge invece Da Urbino Dove vengono messe in risalto Le cattive condizioni Del manto stradale In via Monte Acuto Nella zona industriale Di Ponte Armellina Il tratto si aggira Sui 350 metri di strada Dove tutti i giorni Circono centinaia di mezzi Che regolarmente Inciampano sulle decine di toppe Presenti nel tragitto La riparazione delle buche Createsi è dovuta A una serie di interventi Proiettati a risanare Le tubature sotterranea Pratica che a detta Del telespettatore Avviene frequentemente Provocando un continuo Apri e chiudi di buche La loro copertura Però non sempre avviene Come si può notare Da quest'ultima foto Dalle quali si intravede Una profonda buca Non ancora riparata Sabato e domenica Dalle 18 fino a mezzanotte Saranno i più piccoli pesaresi A impossessarsi del centro storico Con il ritorno Della mezzanotte bianca Dei bambini È diventato ormai Un must per Pesaro Accogliere in città La mezzanotte bianca Dei bambini Che nelle giornate Di sabato 2 E domenica 3 settembre Darà vita La sua tredicesima edizione Dalle 18 a mezzanotte Ingresso libero per tutti Per vivere emozioni Giochi Spettacoli Divertimento E laboratori creativi Siamo alla tredicesima edizione È una manifestazione Molto bella Quella di quest'anno Molto ricca Ed è una manifestazione Che può dare Molto In questi anni Ha accompagnato I bambini I ragazzi Di Pesaro I turisti E anche quest'anno In accordo Con l'amministrazione Comunale Abbiamo lavorato Per valorizzare Tutto quello Che c'è di bello Di interessante A Pesaro Per i bambini E per i ragazzi Quindi conseguentemente Per le loro famiglie Quindi la possibilità Di passare Un fine settimana A Pesaro Sia dal punto di vista Artistico Avremo degli importanti Interventi Sul palcoscenico Nella piazza del popolo Il sabato sera La domenica sera Così come Un po' in tutto Il centro storico E nei contenitori Culturali Della nostra città Quest'edizione Diciamo L'abbiamo Ampliata Un po' In varie piazze Della città Quindi partiremo Da piazza del popolo Con il palco centrale Dove ci saranno Ovviamente Come già sapete tutti La chiusura Dei nameless Questa Vende emergente Pesarese Che siamo molto contenti Di ospitare E oltre a Laboratori A cocole sonore Quindi tutto quello Che può essere L'attività per i più piccoli Spostandoci poi In piazzale Olivieri Davanti al conservatorio Rossini Dove invece Avremo attività Per i ragazzi I bambini un po' più grandi Quindi 12-13 anni Legate all'evento Delle tartarughe ninja Che porterà Un'esperienza Nuova Anche in vista Del nuovo film Passando poi Piazzale Matteotti Dove invece Avremo tutta L'attività sportiva Legata all'attività Con gli animali Attività con i poni Cavalli Dei centri ipici Qui della nostra Città Avremo anche da Distribuire Una sacca Gadget Con i materiali Di altissima qualità A partire da colori Fibra naturale E tanti altri Elementi interessanti Per chi ovviamente Si potrà Registrare Durante i giorni Della festa E ovviamente Uno degli appuntamenti Più attesi Che ora è Nella fine di agosto Prima di settembre Appunto per marcare Che è un periodo Delle vacanze Delle famiglie Che possono Prolungarsi Prima della ripresa Dall'anno scolastico La mezzanotte bianca I bambini È nata Da un'iniziativa Di un assessore Al quale la banca di presa Ha partecipato E da allora Siamo presenti L'aspetto sociale Per noi è importante È importante Vivere in una città Che è Insomma A misura di bambino A misura di persone In grande stile A porre la parola fine Sulla tredicesima Mezzanotte bianca Dei bambini Ci penseranno I Nameless La giovanissima band Pesarese Da poco Ingaggiata dal noto Produttore discografico Claudio Cecchetto Ma io sono Particolarmente contento Non immaginavo Quando abbiamo Così pensato Questo tour Di chiudere Proprio in bellezza Nella loro città A Pesaro In questa piazza Fantastica Con una festa Dedicata Praticamente Ai ragazzi Della loro età Quindi Vive i Nameless Viva Pesaro E si conclude Sabato 2 settembre La lunga estate Di eventi Dell'arena BCC Di Fano Una chiusura Dedicata Alla proiezione Di un documento Storico Che avete già Potuto apprezzare Sui nostri schermi Di Rossini TV E che ora Arriva sul palcoscenico Fanese A chiudere L'estate Della BCC Arena È un Pesarese Fanese Cosa diciamo Gasture Io direi Soprattutto Una persona Straordinaria Che ha fatto Un documentario Bellissimo E che sarà Messo in scena Questa sera Sono contento Anche perché Rivolgo l'invito A coloro Che avranno Modo Di osservare Questa trasmissione A seguire Le ultime Tre puntate Del documentario Fatto Una volta Fan C'erano i campanili Il titolo esatto È Una volta Fan C'erano i campanili C'erano Erano sette Sono stati Tutti abbattuti Dagi tedeschi Non dalle bombe Degli anglo americani Quattro di questi Ricostruiti Tre In malo modo Lo sottolineo Uno Bello Come era E dove era Quindi in realtà È un documentario Che è un omaggio Alla città di Fano È un omaggio Alla città E soprattutto Voglio dirlo questo È un invito Anche Lo apprendono Questi Gli insegnanti Perché abbiamo Realizzato Delle chiavette Che poi Ne faremo omaggio A tutte le scuole Di Fano Dalle elementari Alle scuole superiori Benissimo Quindi chiusura Della stagione Della BCC Il 2 settembre Con Una volta Fan C'erano i campanili E concludiamo Con lo sport In particolare Con il calcio Sabato 2 settembre Comincia infatti Da Ferrara In casa Della SPAL Il sesto campionato Consecutivo Di Serie C Per la Vispesero Una vis che è stata Rinnovata Da tanti giovani Che sono stati presentati Oggi Nella sede Delle main Sponsor Tecnoplast Meno 2 Al campionato 2023-2024 Della Vispesero Il sesto Consecutivo In Serie C Per i Biancorossi Che a 48 ore Dallo star Di Ferrara In casa Spal Hanno fatto tappa Nella sede Del main sponsor Tecnoplast Per presentare I nuovi acquisti A disposizione Di mister Simone Banchieri Novità Quasi esclusivamente Millennial In osequo La linea verde Annunciata Dalla società Da Silla Alloru Passando per Ceccaci Diop Peixoto Da Pozzo Blumamona Nelson Chemaiu Foresta Iervolino E portieri Neri E Mariani Giovani di belle speranze Ultramotivati Verso una stagione In cui crescere E migliorarsi Prerequisiti Fondamentali Per l'allenatore Attraverso Il sacrificio La sofferenza E poi l'organizzazione E poi io dico La felicità Di fare calcio Poi si possono Arrivare a risultati Di squadra Magari Maggiori Di quelli Che ci si aspetta A differenza di ciò Invece Se questo aspetto Non è molto presente Si rischia Di non essere Altamente adeguati A una categoria Che conosciamo Difficile Però affascinante Perché il campionato Affascinante Come ho già detto In altre occasioni Sembra una B2 E quindi dobbiamo Farci trovare pronti Sotto tutti gli aspetti Fisico Emozionale Mentale Tecnico Tattico Perché sicuramente Poi l'aspetto Tecnico Tattico È importante Nuove arrivi Che hanno anche ricevuto L'input al lavoro E al sacrificio Dal main sponsor Tecnoplast Enzo Camillini Per poter arrivare Dove vogliono arrivare loro Devono veramente A fare tanti sacrifici E la possibilità c'è C'è Basta crederci Se uno ci crede Ci sono le possibilità Per arrivarci Giovani che investono Sulla loro stagione a Pesaro Così come diventa un campionato In cui si gioca tanto Mister Banchieri Confermato Dopo il mini ciclo Di partite di aprile Valse la salvezza diretta Ho avuto Quest'opportunità Che mi ha dato Il presidente Bosco Il direttore Meng Il 3 aprile E poi le cose Sono andate Molto bene Come sapete tutti Ora si riparte Dall'inizio Nel calcio si azzera Sempre tutto Si riparte Con una rinnovata Motivazione Ambizione Sappiamo Come diciamo sempre Che dobbiamo Sostenere Il club E soprattutto Avere una sostenibilità Economica In un momento Difficile Per il paese Economicamente Non in particolare Per qualcuno Quindi mantenere La categoria Valorizzare i giovani E poi io spero Che come ho detto ieri Noi viviamo di una proprietà Transitiva Che ci piacerebbe Vedere felice gli altri Allo stadio Vorrebbe dire Che abbiamo mostrato Un buon prodotto Che giochiamo Un buon calcio E soprattutto La cosa più importante Che facciamo risultati Ecco Il direttore marketing Guerrino Amadori Ha annunciato Come anche quest'anno Ci sarà la campagna Abbonamenti Fugando i dubbi Legati ai lavori Allo stadio Che però sembrano Rispettare il cronoprogramma Che dovrebbe costringere La Viz A migrare dal Benelli Soltanto nelle prime due gare Intanto la testa È solo rivolta a Ferrara E al lavoro necessario Per farsi trovare pronti C'è sempre da migliorare Nel calcio Anche quando si fanno Grandissimi risultati E quindi questo È un tema specifico Che mi caratterizza Però poi È un ottimo gruppo È una squadra Che va aiutata Sostenuta da parte di tutti Dal pubblico Come ho detto prima I giornalisti A tutto l'ambiente Che ci circonda Unità di intenti Invocata da banchieri In cui calza a pennello Il sostegno pluriennale Di Tecnoplast Ho sempre controllato La Viz da fuori Ho sempre Ho sempre avuto lo stadio Magari andavo sul prato Arrivavo ogni tanto Per vedere qualche partita Perché sono sempre stato Un tifoso della Viz Non scatenato Ma sempre stato Un tifoso Ma anche un appassionato Di calcio Sono qualche anno Che sono dentro Come main sponsor In questo momento Sono contento Ho un bel rapporto Con la società Con il presidente Con Guarino Maduri Che ci sentiamo spesso So che la società Fa tanti sacrifici Per poter sopperire A queste difficoltà Perché Come dicevo prima Ci stiamo confrontando Dico ci stiamo Perché faccio parte Della tifoseria Confrontando con delle realtà Veramente importanti Stiamo parlando di società Che hanno fatto la Serie A Società che sono veramente Di un'altra categoria Ma di un'altra società Molto molto importante Perciò Da parte nostra È stimolo Ma anche per le ragazze Di giocare con queste squadre Potrebbe essere anche Un trampolino di lancio Per mettersi in vetrina Per il loro futuro E si conclude qui Questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Come di consueto Prima di salutarci Vi ricordiamo La nostra prima serata Che alle 21.20 È dedicata Alla festa Di fine programmazione Per quello che è riguardato La rassegna Pesaro i tuoi spazi Una capitale Tra borghi e quartieri Una festa tenutasi Al parco Trulla di Pantano Che vi abbiamo proposto In maniera ridotta Nel nostro telegiornale Nei giorni scorsi Ve la mostremo invece In maniera integrale Questa sera Alle 21.20 E poi a seguire Domattina Torna puntuale Alle 7.20 Come sempre In diretta L'appuntamento Con Buongiorno Rossini La nostra rassegna stampa Dei quotidiani locali Come sempre A tenervi compagnia Al mattino Dal lunedì Al sabato Ed è davvero tutto Per questa nostra edizione Dele telegiornale Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi Per averci seguito Per averci seguito